La campagna elettorale è molto particolare quella che stiamo vivendo perché se andiamo in giro ci accorgiamo che sul territorio la campagna elettorale non la sta facendo quasi nessuno, addirittura i partiti nelle planche hanno messo solo i manifesti dei leader nazionali come per dire che il territorio e la rappresentanza democratica del territorio non esistesse. Non è così, penso che il territorio ha bisogno di rappresentanti, quei rappresentanti che conoscono bene i problemi e il territorio. Purtroppo notiamo che questi partiti oltre a non avere quel confronto, quel contatto, non dare la possibilità di far conoscere i propri candidati non mettendo addirittura neanche i manifesti ma forse sappiamo anche perché. Perché poi se andiamo a scorrere bene i nomi dei candidati rispetto ai sondaggi pubblici che sono stati resi noti fino alla settimana scorsa ci rendiamo conto che verranno eletti delle persone in Abruzzo che non sono abruzzesi, che non conoscono l'Abruzzo e che pertanto sono venuti a rubare la rappresentanza democratica della nostra regione. Penso che dobbiamo restituire l'orgoglio e la dignità agli abruzzesi votando i rappresentanti abruzzesi votando il terzo polo della lista calenda. Un appello quindi che io voglio fare per fare in modo che i cittadini si possano rendere conto effettivamente a prescindere dal loro pensiero sul simbolo politico di andare a vedere bene chi sono i candidati che stanno sotto a quel simbolo, capire la loro storia e vedere anche il loro trascorso, il loro passato. Per fare in modo che in Abruzzo e in particolar modo in provincia di Teramo ci siano dei buoni rappresentanti. In provincia di Teramo c'è addirittura la possibilità che non abbia, ed sarebbe stata la prima volta della storia repubblicana, nessun rappresentante in Parlamento. Sono solo io purtroppo capolista e quindi possibile eletto, ma non sarà facile, noi stiamo lavorando per fare in modo che questo possa avvenire per restituire orgoglio e dignità e rappresentanza alla provincia di Teramo.